Salve a tutti ragazzi, qui Sam Forever X e benvenuti alla quarta ed ultima parte del gameplay di Cat Mario Come potete vedere qui ho raggiunto il quarto livello, quindi proseguiamo Allora qui che dice? Vabbè non lo capirò mai Cosa suppongo cada? Sì, ok Possiamo andare La palla di fugo Schiviamola attentamente Qui Oh cazzo Cazzo appunto Scusate comunque se carico video molto raramente purtroppo con la scuola e quant'altro ho avuto un pochino di problemi Però adesso con queste feste natalizie potrei iniziare a caricare con più frequenza Quindi non preoccupatevi, usciranno anche altre parti sul tutorial di Magic Altri gameplay su altri giochi Sempre suppongo Rage Game E quindi Oh questa volta non è Cazzo Comunque sì Usciranno molti altri gameplay, altri video stupidi Vabbè Continuiamo qui Allora Suppongo che Questo tasto dovremmo premerlo Però c'è sta cosa qua Oh che culo Che cazzo sto combinando Ecco qui Gesù Gesù Marmitta Se volete vedermi giocare ad altri giochi Quelli che volete voi Scrivetemelo nei commenti Lasciate un like E io giocherò al gioco Che mi avete suggerito Tanto qui cerchiamo di superare Questo primo Questa prima parte del quarto livello Giabba No che cazzo faccio Ah Gesù impiantato Ti prego Giuda Ah Quel Giuda elettrico Come potete vedere ho perso 49 volte Questa sarà la cinquantisima Aspettate No non sarà la cinquantissima No No Si sarà la cinquantisima No che cazzo ho fatto Oh Cristo Allora Ma che cazzo sto combinando Giuda Mosè barbiere Ti prego Oh Cristo Niente 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 Non va Madonna cavalletta Intanto dovrei comprare un computer nuovo Perché quello che ho adesso fa Abbastanza pena Quindi cerchiamo di non morire Qui ti prego Giuda Oh mio Oh Gesù Gesù Oh si si ti prego Ti prego Ti prego cazzo Ti prego Ti prego Ti prego Allora Qui ci sarà sicuramente qualcosa che mi farà accadere Oddio Cazzo Che cazzo è Che devo fare qua Devo fare qualcosa con questo Che cazzo devo fare No No Bravo Bravo Bravissimo Oh sta andando bene Pezzo di merda Fai schifo Mettiamoci qui È sicuro che non ci prende Adesso corre come un ladro Ok Bravissimo Bravissimo Vedo Oh Oh Ok Stavolta Stavolta non mi fotte Pezzo di merda Eh 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 Oh Cristo C'è su nuoletta Eh ma come cazzo si fa qua Devo correre come un marinaio Oh si 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 No 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 Ok Proviamo quindi lì Oh no Non credo sia così Oh Questa cosa non la prendo perché non mi fido Quindi Oh Cristo Vabbè ragazzi Questo video Non finisce qui E quindi Continuiamo Complimenti Penso che In un prossimo video Che farò Oltre C'è Sì A fare La Mi sembra Sesta O quinta Ed ultima parte Del tutorial Di magic Perché Credo che non ci siano più cose da dire Se l'avete Seguita E Poi non lo so Farò anche qualche vlog Credo qualche volta Con i miei amici E Niente Ci conosceremo meglio Visto che Sto su youtube Da Cinque anni Però Alla fine Non ho concluso un cazzo Quindi voglio Diciamo a fare le cose Voglio iniziare a fare le cose seriamente Quindi Da oggi in poi Si inizia a fare sul serio Ragazzi Comunque Non so se vi ricordate Feci il gameplay di SCP Containment Breach Penso che Non lo continuo Perché Sinceramente Sul mio computer Fa abbastanza schifo Cioè Lagga Da pazzi proprio Quindi Finché io non comprerò Un computer decente Appunto Non giocherò A giochi decenti E Spero di farlo Adesso quindi Per Natale E Spero che i miei Me lo comprino Altrimenti Già è tanto che sta reggendo Cat Mario Cat Mario Comunque Andiamo avanti Comunque Se sul mio canale Vedete Video Scritto Alla fine By The Cancers Quello era un progetto Che aveva Che avevo Intrapreso Con i miei amici Dove un gruppo Di ragazzi appunto Si incontravano Per fare cazzate Fare video E Nella Nella migliore dei casi Avere successo Su youtube Comunque alla fine Abbiamo andato a fanculo Tutto Perché a volte Non c'erano Delle persone Per fare video Quindi mi sembrava Non giusto Fare video Nonostante Non ci fossero Delle persone Quindi alla fine Abbiamo andato a fanculo Però chissà In futuro Potremmo riprendere Forse Che cazzo fai? Buttami fuori Oh cristo Sto combinando Vabbè ragazzi Concludo Questa Questo video Dividerò Questa Questo quarto livello Di Cat Mario In due parti Magari La prossima La caricarò Tra un paio di giorni Tre giorni Non so Comunque Grazie a tutti quelli Che guarderanno Questo video E Niente Se volete lasciate un like Iscrivetevi al canale Commentate Qualsiasi cosa volete O Scrivetemi in un gioco Che volete farmi fare Qualsiasi cosa Spero vi siate divertiti Spero che il video Vi sia piaciuto E Alla prossima Ciao Ciao